Sui giochi del Mediterraneo, da tutte le forze politiche tarantine, inviti a risolvere la vicenda. Naturalmente sono diverse le angolazioni di approccio alla vicenda e sono tipiche della contrapposizione, anche salata dal punto di vista politico. Ma perdere i giochi farebbe fare una brutta figura davvero a tutti. Il consigliere regionale Renato Perrini. No, non bisogna perdere più tempo. Massimo marzo aprile devo iniziare i cantieri perché i giochi del Mediterraneo sono a giugno del 2026. Da mia esperienza per fare un calendario, al minimo ci vogliono due anni. Bisogna velocizzare tutto, bisogna cominciare a fare squadra, sistema, basta polemiche. Oppure quello che è successo, chi è stata la Coppa. Le carte stanno là. Io sto in regione, so benissimo come sono andate le cose. Dobbiamo cercare di collaborare tutti e fare sistema per questa città di Taranto perché i giochi si devono fare a Taranto.